Allora, vediamo un po' questa conferenza stampa di Conte e questa zuppa di porro che facciamo in serata, una zuppa di porro un po' diversa rispetto a quelle solite, perché dovete sapere che Conte sono due giorni che ci ha detto che faceva la conferenza stampa, ormai è diventato un appartamento imprescindibile, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Qualche volta ci sono le comparsate, come è successo lunedì, ma proprio comparsate, Razzolina, Patuanelli e Gualtieri, altre volte invece è da solo. Casalino questa sera aveva previsto una regia incredibile, che cosa ci dirà il Presidente del Consiglio? Allora, primo aspetto banale, logistico, quelli che mi seguono sulla zuppa di porro lo sanno bene. Intanto se tu sei il Presidente del Consiglio e c'hai Casalino, un uomo del grande fratello che ti gestisce tutto il comitato di presidenza della comunicazione, magari le domande cerchiamo di renderle comprensibili, questa farsa di una conferenza stampa che non funziona, dà il senso della burocrazia italiana per la quale non riescono neanche a fare una conferenza stampa con le domande dei giornalisti, ma ovviamente si tratta di dettagli. No, la cosa che mi ha impressionato di questa conferenza stampa è che noi abbiamo, anzi Casalino, e il giornale unico del virus italiano ci ha sempre presentato Conte come l'uomo che non si può criticare perché è lui che comanda per il bene degli italiani questa emergenza mai vista e inattendibile e quindi non si criticano i morti e quindi non si criticano i morti che nascono tutti quanti da alcuni sostengono da un'improvvisazione nel capire l'emergenza italiana, ma io non voglio entrare su questo aspetto, io voglio entrare sull'aspetto del Presidente del Consiglio istituzionale, quello che è al di sopra delle parti, quello che lui stesso ha definito se stesso Churchill, chiaro? Perché Conte definisce se stesso, sto leggendo in questo momento dei libri di Churchill, una roba imbarazzante solo a pensarla, non so, è come se uno si paragonasse a Montanelli, una persona normale, cerca di non fare paragoni che capisce che non sono nei fatti, ma lui è Churchill, nell'ora più buia ci abbiamo Conte e Casalino, chi sarebbe Casalino non lo so, beh insomma Conte e Casalino che fanno la conferenza stampa e quindi tu ascolti questa conferenza stampa e penso che molti di voi l'abbiano fatta, la prima questione della conferenza stampa è molto semplice, tu capisci che la politica non conta nulla, beh se vedi Conte e Casalino forse lo capisci bene, anche un po' dei suoi ministri, perché tu pensi a tutti i suoi ministri, prendete i nomi, vanno bene più o meno tutti, forse tranne qualche ministro del PD di vecchia generazione, insomma gli altri capisci che contano veramente poco, ma la cosa impressionante, impressionante, sentiamo gli esperti, cosa decidiranno gli esperti e ci diranno cosa fare gli esperti, oh, la politica non è questa roba qua, sembra di stare a mani pulite quando gli esperti, cioè i magistrati dell'epoca dissero resistere, resistere, resistere e qua sono i virologi che ci dicono resistere, resistere, resistere e questi sono quelli che decidono tutto quello che noi dobbiamo fare e questo ci dice che siamo agli arresti domiciliari fino al 3 maggio, perché questi sono arresti domiciliari, noi zitti e buoni, perfetto, rispettiamo, adesso voglio vedere quante persone si mettono a fare le strimpellate a casa loro, poi escono e sono dei delinquenti, no, non sono dei delinquenti, sono persone che anelano alla libertà, ma comunque questo è un altro discorso, la questione fondamentale che veramente io vi invito a ragionare fuori da ogni schema politico, secondo voi l'istituzionale Conte che si fa la sua conferenza stampa senza audio per i giornalisti, che fa con Casalino questa messa in scena perché sono due giorni che aspettiamo questa conferenza stampa, dice che la colpa in questo momento che potrebbe indebolire la trattativa italiana si chiamano Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dai, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono accusati da Conte in diretta al canale Rai 1 con tutto il mondo che attende questa conferenza stampa a pieno schermo attacca due politici, ma io mi chiedo, ma secondo voi, questo è quello che avrebbe fatto Churchill, secondo voi domani il comitato, quella specie di cabina di regia, quando questi si sono sentiti attaccati, ha ragione o non ha ragione? Ah, a Rai 1, nell'ora di pieno ascolto, si sono stati, si sono visti attaccati dal presidente del Consiglio senza possibilità di replica? Beh, questi domani gli fai l'accordo nella cabina di regia? L'opposizione, come chiede Mattarella, tutti quanti insieme, gli ha appena dato uno schiaffo in faccia, un calcio nelle palle, vorrei dire in maniera poco educata, così sono più chiaro, ma vi sembra normale? Ma vi sembrano normale? Cioè, un presidente del Consiglio, nel momento più buio, come lo definisce lui, si occupa di che cosa? Dell'apertura delle librerie, ne sono contentissimo, io ho un libro, se lo volete comprare, si chiama Le tasse invisibili, ma penso che non sia una priorità degli italiani comprare il libro di Nicola Porro in questo momento, e ci sono tante altre priorità, ma va benissimo, le librerie apriamole, perché i tuoi intellettuali delle terrazze vogliono che si aprano le librerie, a me non me ne fotte nulla in questo momento, perché i soldi per comprare i libri, se noi teniamo tutto chiuso, non ce l'abbiamo, è chiaro? È banale, a me non me ne fotte, io da autore, che sono ben contento che il mio libro possa essere compiato, non me ne fotte nulla in questo momento, se la gente non c'è i soldi, qui se non c'è i soldi per mangiare, ma li mandiamo a comprare i libri, comunque, posso dire, io adoro i librai, sono una categoria straordinaria, ma come adoro i parrucchieri, come adoro i commercianti, come adoro i baristi, come adoro i tassisti, come adoro gli NCC, come adoro tutto il mondo delle partite degli autonomi che cercano di farsi un bazzo così, però le librerie le abbiamo aperte, i musei, perché non li apriamo come spene e sgarbi, ma il punto fondamentale è che questo ci dice che apre le librerie e poi si prende 5 minuti per attaccare l'opposizione, che voglio dire, è una cosa, ragazzi, toc toc, ma in un paese normale, voi vedete Churchill che si prende Rai 1, dammela 1, dammela 1, si prende la 1 e attacca frontalmente l'opposizione facendo nomi e cognomi e sostenendo che non è che l'opposizione sta sbagliando, ma sta dicendo cose false e quelle cose false compromettono la tenuta di questo paese. Ragazzi, ma non la psicolopolizia di Orwell, ma è il balcone di Piazza Venezia, una cosa di questo tipo, è un virtuale balcone di Piazza Venezia, cioè, Casalino non è il confessionale Rai 1 alle 20 e 30, non si attacca all'opposizione in questa maniera facendo nomi e cognomi, secondo me, ma io lo troverei sbagliato anche se avesse toccato chiunque altro, comunque molti di voi non ci crederanno, ma vado oltre, vado oltre, toc toc, nel 2012 la Meloni non era ministro, a me non interessa fare l'avvocato della Meloni, ma interessa fare l'avvocato degli italiani, no Conte, come dovevi essere tu, e cioè, se tu in prima serata mi vieni a dire che Meloni e Salvini sono il problema e dicono falsità sul MES e poi tu in prima serata mi dici che il MES è stato firmato da un governo in cui c'era la Meloni e invece non è vero perché nel governo Monti è l'unico partito che ha votato contro e quello della Meloni, a me viene il sangue al cervello, come posso fidarmi di un presidente del Consiglio che dà dei falsi a due uomini dell'opposizione, un uomo e una donna dell'opposizione e attribuisce a uno di loro due la firma di un trattato che uno dei due non ha firmato. Ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, ma veramente il balcone di Piazza Venezia? E poi, il balcone di Piazza Venezia però nel giornale unico del virus si deve rivolgere sempre gli esperti. Ci sono sempre gli esperti perché il balcone ha bisogno dei suoi camerieri. Non voglio togliere nulla ai grandi esperti ma io ho contato che abbiamo una task force per decidere l'applicazione da usare per tracciare gli italiani. verrà ovviamente scelta quando gli italiani non sono più tracciabili per la malattia ma forse per qualche altra cosa. L'applicazione per tracciare gli italiani ha bisogno di 76 esperti presso il mistero dell'innovazione. 76! 76 esperti! Abbiamo una task force a Palazzo Chigi contro le fake news io consiglierei anzi ve lo chiedo alla task force di Palazzo Chigi sulle fake news di chiamare il premier Conte e dire che la Meloni non ha firmato il mess perché questa è una fake news cioè a Palazzo Chigi la task force di Conte dovrebbe dire a Conte che ha dato una fake news senza possibilità di replica e cioè che la Meloni ha firmato un trattato mentre lei non era al governo la stessa task force abbiamo una task force di psicologi che devono affrontare i disagi degli italiani e che sono al ministero della pubblica istituzione cosa buona e giusta peraltro è la più silenziosa di tutte e adesso abbiamo una nuova task force fatta da 20 persone guidate da Colao per capire quali sono i passi per poter entrare nelle aziende ma voi ragazzi ma siamo impazziti e come abbiamo Borrelli abbiamo Arcuri Borrelli e Arcuri non si capisce che cosa fanno e poi abbiamo Colao e poi abbiamo i sindacati che sono sempre dentro questo è il paese dei comitati delle task force perché Conte quando un giornalista chiede fa una domanda Conte sapete qual è la risposta? e questo è come posso dire il lupo travestito d'agnello se un giornalista ti fa una domanda mi sembra che sia un giornalista di Repubblica che gli fa una domanda sapete qual è la domanda? tra l'altro quattro domande due della Rai adesso io ho grande rispetto per la Rai perché ci ho lavorato e vi assicuro che magari il Presidente del Consiglio in questo clima fake news eccetera quelli della Rai facciamo di fare magari troviamo il manifesto troviamo il giornale troviamo libero troviamo la verità troviamo il fatto quotidiano ma il fatto quotidiano è come la Rai oggi ma comunque io vi chiedo una cosa molto semplice ma un giornalista gli fa una domanda e Conte sapete cosa risponde alla domanda? se ha una soluzione me la dia lei ma siamo impazziti cioè con questo tipo di risposta ma non c'è una conferenza stampa se tu alzi la mano e dici scusi Conte perché non sono arrivati i 600 euro lui dice ma c'è la burocrazia e se lei ha una soluzione me la dia scusi Conte perché la CIG non è arrivata e beh ma è un problema perché ci sono pochi soldi dell'Inps se lei ha una soluzione me la dia scusi Conte ma perché non ha funzionato il sinto dell'Inps beh insomma ci sono stati 4 milioni di accessi 40 milioni a YouPorn 4 milioni a Inps e 40 milioni a YouPorn beh i 4 milioni a Inps non sono stati gestibili e allora Conte dice beh ma c'è una soluzione lei me la dia ma ragazzi ma potete pensare che un premier ci dica che fa una task force l'ennesima che l'opposizione fa e distrugge la credibilità dell'Italia quando lo e inventandosi lui posizioni che questa opposizione non aveva avuto e poi quando un giornalista gli fa una domanda gli dice beh se ha una soluzione me la dia lei oh ma ragazzi ma dobbiamo svegliarci e cosa è successo invece oggi è successa una cosa che forse deve essere chiara a tutti quanti voi cioè è stata prorogata la nostra condizione di arresti domiciliari e alle aziende è stata prorogata la loro condizione di fatturato zero cioè sequestro quindi noi che cosa facciamo abbiamo le aziende che sono state sequestrate e poi diciamo alle aziende siccome io ti ho sequestrato ti posso imprestare dei soldi a quanto te li impresto beh intanto devi fare un casino pazzesco per averli e poi te li impresto con tutta una serie di condizioni e poi si lamenta del MES cioè di questo sistema per cui gli europei vogliono dare i soldi a noi mentre noi e le nostre imprese gli ridiamo con condizioni molto superiori a quelle che il MES vorrebbe dare all'Italia non so se vi è chiaro il paradosso incredibile di questa vicenda io non voglio neanche entrare sul MES è una questione di tecnici è una questione anche di una regola chiara che io ho molto chiara in testa e che ha scritto Carlo Messina recentemente cioè sapete qual è e che l'ottimo è il nemico del bene e quindi è evidente che c'è una trattativa difficile in Europa e non bisogna pretendere la luna come diceva quella là però dopo quando mi vedo questa conferenza stampa con quello lì con l'aria stanca che dice che è tutta colpa di Salvini e di Meloni e beh allora veramente mi cadono le braccia è una roba che mi ricorda il peggior incubo di 1984 non ci sono i televisori per le strade come nel 1984 ma ci sono i droni non ci sono il ministero il ministero della verità di Orwell ma ci sono il ci c'è la task force a Palazzo Chigi e ci sono le verità raccontate proprio da Winston che non è Winston Churchill è Winston quello di 1984 sapete cosa faceva Winston di 1984 stava in un ministero e cambiava il passato per raccontarlo diversamente la stessa cosa che fa Conte quando ci racconta che la Meloni ha firmato il mess nel 2012 la stessa identica cosa Winston a cui pensava Conte non è Winston Churchill che è imbarazzante il solo immaginare di essere minimamente simile a lui è Winston di 1984 e noi zitti muti agli arresti domiciliari che sbanderiamo e facciamo le nostre calzoncine ma fatemi il piacere ciao grazie a tutti